appunto era semplicemente se prendere Magic Resist o Armor alla fine in mid comunque c'era comunque un app inondarius comunque stavo dicendo eh niente ci tengo tanto a quel video perchè comunque è stato il ritorno della serie alla quale sono più legato diciamo ti seguo solo su Fairy Can't Cut Farro e forse la scalata sarà diciamo il motivo per cui inizierai o tornerai, quello dipende da te se mi segui prima o no e a seguire il canale, il primo canale perchè di sapere Farro ragazzi lo dico chiaramente scusate mi sto spogliando e intanto mi si incastrano i lacci qua dicevo non so se mi seguite sul primo canale ma in ogni caso io ho due canali, c'ho Fairy Can't Cut dove carico appunto tutti gli uncut di Goff Legends tutte le partite migliori da live e Fairy che è il mio canale principale dove attualmente sto caricando i best moments le conferenze dei live editati sono molto belli guardateli e da oggi anche la scalata eh Jump non esiste più quella quindi Farro ti consiglio perchè prima potevo capire cioè prima era proprio sci era proprio c'era una scissione totale in cui il primo canale troiate qualsiasi cosa tra i live streamer con la frusta in segreto tutte quelle cose le reaction eccetera e il secondo canale League of Legends adesso invece sto postando molto lol anche sul primo canale perchè mi sta tornando piacere sto gioco per un motivo o per l'altro e niente questo è quanto ragazzi andiamo un po' ability power 2 bonus health 12 wow report my team nel dubbio editata allora stavo pensando una cosa ragazzi così vorrei sapere anche la vostra opinione adesso mi arriverà la Q di Morgana anzi ci metto direttamente una guarda e via dicevo mi serve una vostra opinione ditemi cosa ne pensate io ovviamente carico i video della scalata che saranno editati sul primo canale li volete anche uncut sul secondo però nel caso lo facessi lo farei dopo perchè io stavo pensando ho detto li carico anche uncut su feric uncut non penso sia molto interessante però allo stesso tempo gli ho detto boh è un contenuto in più cioè nel senso meglio un contenuto in più che un contenuto in meno giusto? ecco però allo stesso tempo non voglio che le persone guardino l'uncut anziché il video editato e tutto elaborato capito? ottimo dicevo io non voglio comunque che la gente guardi quello uncut non editato perchè quello editato c'è molto più lavoro c'è più tu cioè nel senso quello è la vera scalata gli altri sarebbero conto di più farlo perchè soldi eh sì cioè non è ovviamente che quei boh quei due tre euro in più mi cambino molto eh però ci potrebbe stare più che altro perchè magari qualcuno boh cioè non c'è un perché è un contenuto in più meglio un contenuto in più o un in meno cioè quella è la vera domanda meglio un contenuto in più piuttosto che un in meno io l'ho pensata così comunque niente Dars l'abbiamo asfaltato proprio opened ok eh niente quindi questa è la mia idea quindi in caso volessi caricare anche se il secondo canale li caricherò molto più in là perchè voglio che la gente si interessi ai montage del primo canale non agli uncut almeno per quanto riguarda la scalata ovviamente probabilmente flash che facciamo arinza runza il cazzo mrs runza facciamo quello esatto ne ho viste poche di persone confuse come questa Kali gg sto 2-0 con il champion che con uno dei champion che devi scalare per eccellenza sto 2-0 così a occhio siamo in un'ottima situazione no frizzata male che brutta situazione era meglio se mi aiutava a pushare effettivamente ok esatto axlender era proprio quello vedo che conoscete ability power ci prendiamo questo ci prendiamo questo e andiamo buono abbiamo 2 kill siamo molto molto in vantaggio e lei c'ha nulla io c'ho il pene di Ahmed infatti se il gioco è infinito sul fatto di averlo riportato in così tante salse mi ripeto è assoluto curioso rictici si perché lol a contrario di tanti altri giochi è un gioco che lo puoi portare veramente come ti pare è per quello che non sono cioè fortnite pure mi piaceva ma è per quello che mi sono stancato poco perché fortnite clicchi su avvia partita poi ci sono le varie modalità per carità però non c'è il competitive quella non competitive tutto randomico cioè dipendentemente da ciò che trovi per terra tutte ste cose qua cioè proprio non non mi interessa minimamente e dire che fortnite mi piaceva comunque poi vabbè è diventato virale mainstream ma quello è un altro discorso io non gioco barra evito i giochi perché piacciono agli altri ecco su lol puoi fare tante tante cose come ora non è che mi sto appassionando nel giocarlo normale sto provando a giocare normalmente lol dopo anni che praticamente trovo il picco e basta mamma mia ci avessi due ulti le farei open head nel sedere ok stiamo comunque andando parecchio bene abbiamo avuto uno start vladimir non c'è un po' che late game ti fa uno v9 oh dio fabbie fabbie mamma mia fabbie mamma mia ragazzi posso fare uno spam di fabbie in chat grazie grazie vedete fiai perché fabbie perché sì perché no cioè voglio dire fabbie mamma mia tutto per fabbie ragazzi quella è stata una bella double kill cazzo porca puttana è stata bella clipa 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 la scrotobelt oltre alla scrotobelt che prendiamo nulla voglio vado diretto di rabaddon abbiamo la scrotobelt ragazzi tra quanto abbiamo le scarpe siamo lenti come la merda 8 minuti minchia è vero ho fatto 4 kill 8 minuti gg spike non posso l'ho preso nelle rune infatti sono lento però è ok ok mate ok però beh ma ok cos'è che ti spinge a fare queste cose a Kali dimmelo quanta vita quanta vita mamma mia fabbie unlucky non è morto però guardate già quanto mi sto curando c'è ok hanno avuto molto culo devo dire però è ok ok tutto sommato il culo aiuta fino a un certo punto vai fabbie vai con i soldi fabbie vai ottimo prendiamo prendiamo un large rod e via no vado di rabadon incazzato nero so che è molto buona la visage contro quel team ma prima un rabadon incazzato nero mate fidati ma si che Vladimir è un vampiro e che cazzo certo che è un vampiro mate mamma mia pure botte la stiamo stiamo distruggendo tutto bene tu sai che non passerei più di qua no invece ci passa non ha paura tieni tieni nella schiena questo tieni cos'è provi a cali prima che venga distrutta no 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 Fabio 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 ragazzi prendi il cazzo a cali vai prontissimi raga beh back stavolta mi sa che prendo le scarpe vai voglio un po' di movement speed avrei preso un altro larger però sti cazzi Fabio forse conviene cambiare nome fake uncut l'altro video diventerà uncut di altro in che senso paro cioè immagino tu intenda che ma io penso che cioè io ho sempre pensato se mi trasferissi li portassi un po' varietà di lol lo chiamerei fake lol vabbè sti cazzo eccoli ho dei vita gratis credo che ci siamo già capiti qua mate mate vacci a sto punto voglio dire prendiamoci tutto lol stopwatch incredibile lo stopwatch minchia mi sento fortissimo con blood oddio quanto mi ha tolto non pensavo togliesse così tanto effettivamente sì un po' 20% dell'acqua ah 300 hp mi togli ok vabbè sti cazzi mi refullo dove cazzo andale dove cazzo è andata a kali boh cazzo è andata a kali refulliamoci un attimo ok 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 mannaggia missatoli open please vlad solo game oh ragazzi è vero è vlad troppo forte sto champ e non dite perché ah stai smarfando no no perché con gli aso faccio cagare il cazzo pur se sto smarfando niente meggiare sto giro oddio sai sto punto facciamolo cioè già era facile mossa mi fa prendere meggiare yeah he's a boss beh ok che avrò giocato solo beh che oddio costotrandolo effettivamente sarebbe stato difficile il game una front line che non è tan cosa blade of legends mamma mia se sei simpatico no non ce la fa un po' di difficoltà in più ci sta non ci lamentiamo è quattro livelli sotto guardiamo guardiamo tutti insieme ah raga ma che kill vi ho fatto che kill vi ho fatto che kill vi ho fatto la kill wireless visto eh oh no sfarmate un po' di johnny in chat così perché sono felice aimbot aimbot con luck sì fabbio dove sei ahah ahah uddio beh stavolta non ce l'ho fatta mannaggia quella w di merda poi non ce l'ho mai la ulti quando mi serve vedete è la maledizione del drag seal ragazzi quando prendo il drag seal è così non devo prendere il drag seal prendiamo questo maledizione di johnny johnny è colpato ma johnny non fallo mai più manda la magic resist lui ce l'ha della magic resist si è sentito effettivamente l'ho sentito non è stato è stato shottato ragazzi a kali non ha ancora un item unlucky anche lucky è fake grazie mille del pensiero comunque dopo gioca ancora Vlad cos'è vi è piaciuto così tanto questo questo gameplay one shot one shot al buio questa ragazza è una kim pregiata devo dire per quanto fosse facile cioè nel senso ecco ho fatto una di spettacolare però è stato proprio bello sapere che io ho tirato dei ho premuto dei tasti qualcuno è morto mi sono sentito kartus per un attimo uccidere delle prede che non vede non ti permette non ti permette beh sattler se la tua power di abeca yaso no tranquillo non giocare yaso al prossimo game esatto esatto ragazzi bravi bravissimi esatto 13-1 ragazzi ma è meravigliosa sta roba è meraviglioso sto centro che cazzo è stato ahhh ahhh be ma che cazzo è sto tizio ciao youtube bello voltex sì penso di sì anche fare penta con yaso aiuta comunque guardate ho lì che bravo full attack speed ma cosa sta facendo sto tizio qua bella italy un po' di aimbot a quel gin eh vabbè dai è 6-0 almeno vabbè ha giocato anche bene vedi non ho solo vinto cioè sì per carità avrei vinto anche se avessi fatto schifo lui con vlad veramente uno v9 senza problemi però l'unico è darius molta magic resist però cioè apparentemente non ho così tante necessità di buildarmi magic pen solo per lui cioè adesso la farò a prescindere però ragazzi io tiro dritto tranquilli proprio mi sa che ho appena fatto vedete vedete che vi stavo dicendo che vi stavo dicendo ho vinto ho vinto da solo potevo non averlo il team una partita con vladimir così fucking smurf della vecchia trinity dove era la vecchia trinity ho visto di tutto tranne che della vecchia trinity gg onoriamo boh lui il cazzo ne so senza che farmi maggiare mi fossi fatto magic pen sarebbe stata un'altra cosa l'avrei shottato ci ho messo troppo non mi ha dato la quadra kill però il pene di ahmed signore e signori il pene di ahmed eccolo qua wixi è bugato e mi fa rimandare l'alert del sub quindi perché non usarlo fieri cluel l'alert del sub